Lui è ancora abbastanza reattivo malgrado che fosse sepolto in questa prigione da oltre dieci anni dove il problema di sopravvivenza è addirittura giornaliero, da dieci anni, però la condanna è all'ergastro senza condizionale da dove può uscire solo da morto. Noi, cioè personalmente io, non è che sono venuto qui all'indomani della condanna senza aver tentato tutto e di più l'impossibile per cercare di aprire una porta e dare una rivalutazione a quello che è stato il processo, come è stato celebrato e come è stata emessa questa condanna. Io sono andato avanti e indietro per 50 volte almeno, dopo che ho scoperto che il primo studio legale non ha fatto bene il suo lavoro e perché lì c'è stata la libera mano, l'accusa di dire quello che voleva senza che ci fosse nessun contrasto. Quindi sono passati dieci anni, ho tentato tutte le vie possibili e immaginabili, abbiamo fatto sei appelli, ogni volta c'è stato risposto di niente. Cioè vuol dire, non se ne parla neanche, senza nessuna opinione e senza nessuna motivazione. Noi abbiamo moltissimi motivi per contrastare quella sentenza, abbiamo delle prove inconcutabili che l'accusa erano infondate, abbiamo tanti motivi per credere che quel processo è stato inficiato e manipolato. Noi facciamo risalire le cause principali a due fattori determinanti in quel processo. Primo, l'abilità ma soprattutto la scorrettezza dell'accusatore che nella ringa finale ha convinto la giuria a demettere un verdetto di colpevolezza basandoci esclusivamente su delle fantasie prove circostanziali e profittando anche del fatto che non c'era più possibilità di replica. Questo quando è che l'abbiamo scoperto? Il profilo dopo che ha chiuso la ringa finale. E allora abbiamo chiesto agli avvocati della difesa ma perché l'ultima parola ce l'ha l'accusa? Quando che si sa che la giuria presente deve fare mente locale a quanto è stato detto durante il processo, non è che abbia delle note oppure può fare dei riferimenti. Quindi se uno nei 40 minuti di questa ringa finale spara tutto quello che gli pare non c'è replica. E perché questo? Perché parla per ultimo? Ma perché c'è una regola che prevede che se l'imputato non viene chiamato a deporre la parola finale rispetto alla cura, è gravissimo questo. E perché non è stato chiamato a deporre? Ma perché lui aveva detto una bugia e per cui il fatto che sai qua in America la bugia è grave magari poteva venire massacrato e faceva una cattiva luce di fronte ai giurati. Vabbè sì, però non esiste questo fatto che uno non può rispondere a un'accusa che il gruppo di giurati, quello assimila prima di ritirarsi nella Camera del Consiglio. Purtroppo dice che non abbiamo previsto perché noi pensavamo che non ci fosse assolutamente prova neanche i motivi per mettere insieme questo processo e quindi siamo stati colti di sorpresa dal fatto che lui avesse citato come movente dell'omicidio la truffa mentre Chico Porti all'inizio di questa istruttoria aveva due accuse di truffa e di concorso di omicidio dalla truffa era stato assolto. Quindi questo movente non poteva venire usato come movente per l'omicidio. Se dall'accusa viene assolto, erano otto capi di imputazione, non uno. Ognuno di questi otto capi di imputazione è stato azzerato perché inconsistente allora non poteva venire usata la truffa come movente dell'omicidio. Invece nella fase finale dell'omicidio, proprio negli ultimi dieci minuti, ha usato la truffa come base della sua ringa e per cui ha convinto i giurati che l'omicidio è avvenuto perché lui aveva intenzione di truffare un albergatore in cui il figlio è venuto ospite suo e dopo mezz'ora che lui l'aveva prelevato all'aeroporto e portato in un ristorante dove lui gli aveva detto portare, non l'ha più visto, l'ha incontrato per la prima volta in quella occasione e per l'ultima volta, mezz'ora dopo, gli hanno impastito addosso un processo. E allora noi ecco dove siamo trovati che come seconda causa di come è andata a finire la vicenda di Chicoforte è proprio la mancanza e l'assoluta inefficienza della difesa. Noi, è chiaro che qui io potrei anche inciampare in qualche cavillo legale, però da come si sono svolti i fatti abbiamo ragione di credere che c'è stata una specie di collusione tra l'accusa e la difesa perché altrimenti un avvocato di prima nomina non avrebbe potuto accettare quelle prove circostanziali che chiaramente sono state costruite per dare modo di imbastire questo processo. Ecco, questo è perché Chicoforte, prima di questa storia, non aveva avuto nessun precedente penale, non conosceva le regole e i sistemi del giardino americano, non aveva mai avuto nessuna esperienza di giudici e tribunali, quindi lui si era fidato ciecamente di questo studio legale che tra il resto passava tra uno dei migliori di Miami. Le mancanze di questo studio legale, noi le abbiamo quantificate, una quindicina più o meno, dove potevano contrastare ma con la più elementare facilità. Tra il resto il fatto che non sia mai stato chiamato a deporre, non ha mai dato modo alla giuria di farsi un'idea, di chiesto Chicoforte come mai si trovava lì, cioè vuol dire né i precedenti, né come svolgeva la sua vita, né il lavoro che faceva, nulla. Perché? Perché diceva che non ci sono gli estremi, nessun tribunale al mondo ti può condannare con nessun sostegno provatorio, per cui non è che perdiamo tempo e soldi e denaro per fare una grande difesa, però poi ci siamo trovati che dopo questa ringa finale, più o meno un paio di ore di Camere e Consiglio, questa giuria ha emesso un verdetto di colpevolezza e il giudice ha applicato la più grave delle pene, taluni pensano che sia ancora più grave della pena di morte, perché una condanna all'ergastolo dove può uscire solo in un sacco, ecco questa è una condanna che io credo che ognuno di noi qui non può neanche concepire, cioè vuol dire troppo forte, troppo cattiva, nel senso che vuol dire proprio azzerare la vita di una persona, questo è il problema e siccome adesso noi abbiamo fatto sei appelli ogni volta dimostrando, avere i documenti per smontare tutte le accuse e per dimostrare che il comportamento dell'accusa e anche l'inefficienza della difesa sono la base di questo risultato, sei appelli che ci sono stati sempre ripiutati senza né opinione né motivazione. Siamo arrivati all'ultimo, quello dell'anno scorso, che abbiamo fatto presso la Corte federale del terzo distretto che è uno dei gradi per arrivare alla Corte Suprema e lì ancora una volta ci hanno dato parere negativo per poter concedere la revisione del processo. Notare che noi abbiamo basato queste richieste principalmente sulle procedure sbagliate, sulle regole violate, sui diritti negati, cioè vuol dire solo lì, non è che si può entrare nel merito del processo stesso l'accusa di... no, però ci sono state, tipo non so, i diritti di Miranda, la regola Wings, il double jobardi che sarebbe questo uso della truffa per come un momento per l'omicidio mentre non potevano farlo e poi anche la convenzione di Vienna che il Consolato ha fatto una protesta ufficiale che si chiama... brief... ecco questa, dove quando è stato arrestato la prima volta Chico Forti, che è stato praticamente intrappolato in una dichiarazione, non è che nel fermo di Chico Forti abbiano avvisato il Consolato, il Consolato è stato avvisato, ha saputo la notizia nove giorni dopo dai giornali locali di questo fermo, quindi ha fatto una lettera di protesta, perché? Perché non ha potuto fornire l'assistenza legale a un suo cittadino fermato con un'accusa di cui avrebbe dovuto fornire l'assistenza legale e qui c'è un'altra lettera di sport, è stato uno sbaglio, il funzionario si è dimenticato di mandare una legge al Consolato per avvisare questa cosa, comunque fa parte sempre di una delle regole violate. Poi, dopo tutti questi tentativi ultimi del luglio dell'anno scorso, che questa Corte, come dicevo prima, del terzo distretto ci ha dato un parere negativo, allora abbiamo fatto l'ultimo passo possibile così, verso la Corte Suprema dello Stato, però per accedere alla Corte Suprema dello Stato bisognava avere la motivazione scritta, al che ritorniamo alla Corte federale del terzo distretto e chiediamo la motivazione scritta del diniego per concessione della divisione. Dopo circa cinque mesi, da luglio a novembre, ci rispondono con quattro righe, non abbiamo nessuna intenzione di fornire la motivazione scritta, per cui niente motivazione scritta, niente Corte Suprema, il caso è chiuso di nuovo. Allora, abbiamo fatto un ulteriore passaggio, siamo passati alla Corte federale, che la Corte federale del Stato di Florida sarebbe un settore della giustizia americana che riguarda lo Stato centrale suddivisa di tutti gli Stati membri, per cui se presso le corti dello Stato non viene accettato un ricorso si può passare alla Corte federale che è una specie di cassazione che riguarda tutti gli Stati confederati. E qui, l'abbiamo depositato a marzo di quest'anno, ad aprile ci rispondono e ci dicono purtroppo non possiamo prendere in considerazione la vostra richiesta per scadenza di termini. Beh, come per scadenza di termini? Dopo che abbiamo fatto tutto l'inizio del progetto, poi ci dicono adesso il passo è quello, noi arriviamo da quelli, ci dicono non potete fare presso di noi perché dovevate presentare questa domanda entro ottobre dell'anno scorso, perché lo sapevano queste cose qui. Allora, adesso abbiamo rifatto un'altra mozione presso questa Corte per dimostrare che i termini non erano scaduti e io non so come andrà a finire. Comunque resta il fatto che siamo un punto morto. Qui ogni volta che tentiamo legalmente di fare dei passi e per fare luce su questa vicenda ci viene chiusa immancabilmente la porta. E allora per questo che io sono qui oggi, perché non avendo più possibilità, avendo fatto, come ho detto prima, il possibile e l'impossibile per cercare senza disturbare nessuno di cercare di ottenere la revisione di questo processo non c'è stato dato modo di fare, anche se abbiamo tutti i documenti, ma documenti tratti dagli atti del processo, non che ci siamo inventati noi nel mattina quando ci siamo svegliati, è per dimostrare che l'accusa contro Chico Forti sono infondati e che lui non c'entra nulla con il delitto che gli è stato scritto, ecco non abbiamo avuto modo più di dimostrarlo. Ora, chiaro che qualcuno mi ha detto prima, ma sai, gli americani una volta che hanno emesso diciamo un verdetto dove che il popolo è sovrano, il popolo è deciso, giusto, sbagliato che sia, non tornano più sulle loro decisioni, a meno che non ci sia un intervento politico ma di altissimo livello, perché insomma, da noi per esempio, il viceministro allora che era Giancarlo Innocenzi è andato e venuto, fatto, brigato, è andato dal governatore, è andato a visitare più volte Chico in carcere, è andato e venuto dal consolato, insomma ha fatto dei passi importanti e anche lui insomma a un certo punto ha detto non c'è niente da fare. Gli avvocati stessi, quando che il primo studio legale che noi siamo andati abbiamo detto, insomma, ma come mai è successo questo? Ho mai detto, ma ci siamo sbagliati, non pensavamo, non sapevamo e poi ci hanno detto, noi sappiamo che Chico Forti è innocente, però non possiamo più farci nulla. Ecco, questo è, diciamo, in linea di massima la storia, poi se volete vi spiegherò i motivi per cui noi possiamo dimostrare che Chico Forti è innocente, insomma ce l'abbiamo scritto, ho fatto qui un piccolo riassunto, ma poi ho cattuto un dossier e quindi a questo punto l'intervento può essere solo, esclusivamente il politico, ma di alto livello, insomma, deve essere Berlusca che va dall'Obama e gli dico senti invece, come diciamo noi in Trentino, guarda che qua le cose, insomma, non stanno così, noi non possiamo essere i piccoli italiani che sono lì sempre dietro la coda del grande americano a subire tutto, ecco perché io sono qui e invito anche la stampa presente a sottolineare questo fatto, perché amplifichi questa protesta, perché insomma, secondo me, c'è un'ingiustizia di base che non riguarda solo Chico Forti in se stesso, ma anche diciamo l'atteggiamento del governo italiano che non può abbandonare un suo cittadino in qualsiasi parte del mondo si trovi, quando che è evidente che ha subito un sopruso e lasciarlo a se stesso e dire ma abbiamo cose più importanti da pensare, qua delle volte vediamo per televisione che immobili al merito del mondo, se una balina si incastra tre viaggi, questo qua che è infilato dentro in una galera dove non si sa se domani ancora vivo, perché questa è la realtà, lì in quelle galerie c'è un morto al giorno, questa è la grande realtà, lì 1700 detenuti in questo carcere, suddivisi in braccia, dove che lì diciamo le baruffe o è all'ordine del giorno e spesso volentieri ti taglia una gola intanto che dormi, ma basta un niente, come mi diceva Pico, se scopro che tu hai a disposizione, non so, 100 dollari sul tuo conto e uno viene e ti dice, senti comprami un pacchetto di sigarette e tu gli dici no, quello ti taglia la gola, insomma ecco può essere un motivo di questo tipo qua e poi le loro prisioni sono veramente delle cose che noi insomma io non auguro a nessuno di provarle chiaramente, ma anche entrare e vedere come è diciamo gestita questa, loro la definiscono istituti di correzione, cioè di riabilitazione eccetera, ma lì quelli là devono uscire da camera e ci sono delle orme dove non lo mettere i piedi, devono andare da un lago la getta, devono chiedere il permesso anche per andare al gabinetto, insomma c'è una cosa, proprio la distruzione totale della personalità a tutti i livelli, cioè vuol dire è una cosa tremenda, quindi già sopravvivere è difficile, cioè vuol dire se domani io sono qua a dire che quello l'hanno ammazzato e poi dice, insomma pangiamo tutto insieme e mettiamo un mazzo di fiori sulla tomba, ma io non voglio che si arrivi a questo, anche se il pericolo è questo, perché in fin di conti questo chico forti è riuscito a farsi rispettare perché lì chi si dimostra debole diventa automaticamente una preda in quell'ambiente, è riuscito a farsi rispettare sia dagli altri detenuti che dallo staff carcerario e quindi in questo contesto si sta ancora muovendo, però abbiamo un altro pericolo che lì ogni due o tre anni cambiano prigione quasi tutti i prigionieri, perché lì è un carcere di massima sicurezza, cioè vuol dire lì ci sono dalla pena di morti a quelli che hanno 3, 4, 5 ergastro e chi è il minimo più bravo c'ha 30 anni insomma, quindi stringo, stringo. Per fare qualche domanda magari poi dopo approfondiamo un pochino. No ecco, volevo dire, ecco perché il mio appello sia ai senatori presenti, io dico se riescono a raccogliere le firme di tutti gli altri senatori perché questo non è un problema di colore politico, è un problema insomma di umanità insomma, e far diventare la pressione di parte del Senato, di tutto il Senato io mi auguro perché il governo si interessa ufficialmente a questo caso, ecco, io a questo appello e per questo motivo sono qui. Poi qualcuno vuole sapere le motivazioni, cioè ci sono mille particolari perché io ho riempito 12-600 pagine, dovremmo stare qua per tre giorni.